mamma per l'acchi cioccolata i tuoi biscotti speciali per unicorno saranno pronti presto aspetta ancora un pochino un unicorno arcobaleno ha bisogno di biscotti arcobaleno glassa verde salto saltino anche l'acchi vuole un biscotto ce ne sono tantissimi così è troppo oh no miam 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 ah deliziosi ciao l'acchi hai mangiato tutta la glassa magica di unicorno oh mi dispiace ma gli orsetti di gomma cosa non ce ne sono più tesoro non ci dispiace condividere i dolci ma guardati allo specchio oh aiuta ho le orecchie rosa le zampe arancioni la coda verde e le zampe blu non piangere le zaccoli d'oro toc 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 ancora fame dobbiamo dargli qualcosa di più salutare ma gustoso idea cioccolata sai fare i waffle con la ricotta? certo fantastico e per velocizzare il tutto chiamerò in aiuto le macchinine mocas ehi mocas pronto? per favore portateci la ricotta uova latte burro farina e zucchero a dopo per velocità latte giallo è scaduto salto saltino Lucky fa un assaggino aspetta non si possono mangiare le cose scadute ma questo latte lo puoi bere è latte alla vaniglia latte alla vaniglia latte è il sonnellino sonnellino oh meno male che si è addormentato è impossibile cucinare con Lucky mangia sempre tutto brilla 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 la stellina su nel cielo piccolina uof dobbiamo sciogliere uof il burro nel microonde uof 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 posso aggiungere lo zucchero uof 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 sono bravo a contare uno due tre lasciate che vi aiuti con il frullatore tutto deve essere ben mischiato ecco la frusta oh gru hai ragione un po' di sale grazie Ora le uova, qui, qui dentro, uof, un uof, un uovo, uof, due uova, uof. E ora l'ingrediente salutare! Cosa abbiamo di salutare? Uof, la ricotta per Lucky, uof! Per eliminare tutti i grumi, cambio l'attacco e metto quello con una piccola lama. Solo gli adulti possono farlo! Cioccolata, unicorno! Chi sa scrivere il numero 50? Eh, 0,5! No, quasi! 5,0! Esatto! Misura 50 grammi di farina! Urrà! 23! 37! Oh, 58! Va bene lo stesso! Quasi dimenticavo! Vaniglia, che buon profumo! E lievito in polvere, così i nostri waffle verranno belli e morbidi! Uof, abbiamo dimenticato il latte! Beh, quello che non ha bevuto Lucky! Uof, apro la piastra per waffle! Uof! Inserisco la spina! La piastra per waffle è molto calda! Macchinine mocas! Trasformatevi! Presto sarà pronto del cibo delizioso! Ah, che buon profumino! Vado a vedere! Ah, che profumo! Salto, saltino! Lucky se li stava perdendo! Servitevi, mocas! Num, 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 num! Egru! È Lucky! È Lucky! Ora vediamo se i nostri salutari waffle alla ricotta aiuteranno il coniglietto Lucky a tornare giallo! Uof, uof, qui! Wow! Oh, urrà! Ha funzionato! Visto? È fantastico mangiare cibi deliziosi e salutari! Anche tu puoi provare a fare i waffle con la ricotta a casa tua! La prossima volta proveremo una nuova ricetta insieme! Ci vediamo! Ciao ciao! Ciao ciao! Uof! Ciao ciao! Ciao ciao!